Tanya Cushman Reviewer Tanya Cushman Reviewer Ha detto strappagoccole. Strappame tutto. Oggi sto a 3.000. Si vede? Eh, ma voi n'è che state tanto meglio, eh? Vabbè, vi è da ridere perché io già so quello che sto a dire, capito? Io so stitico. Qua non c'era da ridere. So diventato stitico perché mi nonna da ragazzino in campagna mi diceva sempre di andare a fare la cacca dietro all'albero. Io giravo intorno all'albero e dietro non lo trovavo mai e così non cagavo mai. Ho scoperto... Ho scoperto il mio destino sì da bambino. Quando mia madre mi ha portato all'acquario di Genova. Il primo pesce che mi è venuto incontro è stato il pesce sega. Si sono baciati. Porti i baci io. Finalmente mi sono comprato la macchina nuova. Mi sono comprato la macchina ibrida. Oh, è silenziosissima. C'è solo un difetto. Che ora quando scureggio si sente. Prete. Il musicista. Suona la tromba. La gente, io lo so che quando mi vedete per la prima volta pensate due cose di me. La prima questo da dove cazzo è uscito. E l'altra invece è... Questo ci fa o c'è? Io ho chiesto pure a mia madre. Gli ho detto ma secondo te io ci faccio o ci so? Mi ha detto ci sei, ci sei. C'è un amico mio che è disperato. Perché si chiama Guasto De Cognome. Ma anche il pozzino io suona più. E c'è un altro che si chiama Tavoletti De Cognome. Tavoletti. Un giorno, una sera dovevamo andare al ristorante, ha telefonato al ristorante cinese e gli ha detto Volevo prenotare per due tavoletti. Quella gli ha detto noi avevamo solo tavoli glandi. Ce la vedi i social? Ce la vede? Mi è arrivata una pubblicità l'altro giorno Della pomata che fa crescere il pene. Ho pensato capirà già c'è il telefono e il portafoglie e le pastiche dove cazzo lo metto?